San Gregorio nelle Alpi non dimentica i propri caduti sul lavoro e in emigrazione. Grazie all'impegno del locale gruppo alpini generale Nasci e del circolo Aclipede Montano, accanto al monumento inaugurato nel 1985 si trova ora una targa con nomi e cognomi delle persone rimaste vittime di incidenti ossiricosi. Un doveroso omaggio portato avanti in collaborazione con il Comune, la Biblioteca, la Protezione Civile e l'Associazione Bellunesi nel mondo. Abbiamo un monumento che è bellissimo, un'opera d'arte splendida, che però secondo noi, o meglio anche secondo me per essere più corretto, aveva il limite che è generico, i caduti, mentre con la targa che è stata esposta abbiamo su i nomi dei caduti dove sono morti e quanti anni avevano. Per cui con questa operazione abbiamo inteso dare ancora più senso profondo al monumento esistente. Per fortuna ci siamo avalsi della collaborazione dell'architetto Gloria Manera che ha dato un'armoniosa ambientazione sulla parete del municipio per cui non andiamo a intoccare la qualità artistica del monumento e nel contempo arricchiamo il tutto. Lo stesso Cassola nel corso della cerimonia di benedizione della targa ha voluto ringraziare le tante persone scese in campo per portare il proprio aiuto nello sviluppo dell'iniziativa. Dal canto suo il sindaco Mirko Badole vuole sottolineare il significato che ha per San Gregorio nelle Alpi il poter affiancare la targa al già presente monumento. Quello di ricordare, ricordare i sacrifici che sono stati fatti nei nostri avi e che ci hanno portato anche a questo benessere, questo è quello che dobbiamo ricordare e San Gregorio è stato uno dei comuni che come immigrazione ha dato tanto.